Cari fedeli, celebriamo la nascita del Figlio di Dio, nostro Redentore. Gesù è nato in un piccolo paese, in condizioni disagiate, lontano dagli occhi del pubblico. Potevano vederlo coloro che erano umili di cuore e coloro che rispondevano al grande dono del Signore. Dio ha concesso loro la grazia indicibile di vedere Suo Figlio con i propri occhi. Anche oggi Gesù viene a noi in semplicità. Sta cercando un cuore piccolo e umile in cui possa dimorare. Prepariamo dunque una casa per il Signore nei nostri cuori. Diffiutiamo tutto ciò che è indegno di Dio e accogliamolo vivendo una giusta vita, giusta come Giuseppe e Maria. Uniamoci al canto degli angeli e cantiamo gloria a Dio nell'alto dei cieli e portiamo la pace tra gli uomini. Con la Sua nascita, Gesù ha unito misteriosamente il cielo e la terra. Si verificò così un meraviglioso scambio tra il cielo e la terra. E Gesù nella Sua incarnazione che ci conduce all'eterna incorruttibilità. È proprio questa la fonte della nostra gioia natalizia. Mentre ci regaliamo l'un l'altro questo Natale, possano i nostri cuori riflettere su quel meraviglioso scambio, su quel grande dono, sul Figlio di Dio che è diventato per noi l'Emanuele, Dio con noi. A tutti i parocchiani, ai pellegrini e a tutte le persone di buona volontà, auguro che il Natale vi porti un'abbondanza di gioia e di grazia di Dio e che lo possiate celebrare in pace e con i vostri cari. Buon Natale a tutti voi. Peace e salva.